Cosa succederà nelle puntate di Un posto al sole da lunedì 26 a venerdì 30 settembre? Scopriamolo assieme. Tra Viola e Nicotera c'è ancora un grande gelo, nonostante il grande amore, provocato dallo shock dell'attentato. Raffaele, preoccupato per le tensioni tra marito e moglie, prova a coinvolgere Diego. Eugenio, pronto a tutto per recuperare il proprio matrimonio, propone a Viola una breve vacanza, ma la moglie lo metterà di fronte a un out-out. Successivamente, Viola chiede a Raffaele e Ornella di concederle del tempo per metabolizzare il suo trauma. Continuano le tensioni tra Nico e Micaela sulla gestione del piccolo Jimmy, il comportamento sospetto di Lara accenderà sempre di più i riflettori su di lei, finché non verrà finalmente ascoltata dalla polizia. La donna, però, confermerà la sua estraneità ai fatti. Preoccupato per Chiara, Nunzio si rivolgerà a Rossella per chiederle consigli e supporto. La cosa, però, non sarà particolarmente gradita a Riccardo. Il processo a carico di Chiara è ormai alle porte e Franco non può fare a meno di preoccuparsi per il figlio. Nunzio e Chiara, nel corso dell'ennesima discussione, faranno un incontro poco piacevole, ma Nunzio riuscirà a sventare la rapina. Alberto va avanti con il suo progetto di costruire una casa vacanze, a Palazzo Palladini, però non tutti sono d'accordo e ci sarà qualcuno pronto a tutto pur di fermarlo. Otello viene accolto con affetto dagli amici del palazzo, ma sarà davvero in grado di opporsi al progetto della casa vacanze di Alberto? Se volete rimanere aggiornati su curiosità e notizie sulla serie Un Posto al Sole, potete farlo iscrivendovi al canale e cliccando sulla campanella. Buona giornata.